Come ti chiami? Sara. Che scuola frequenti? Viceformazione. A che anno sei iscritta? Sono al secondo anno. Perché hai deciso di iscriverti a viceformazione? Perché voglio fare la pasticcera. Qual è la tua materia preferita? Pasticceria. Ovviamente. Ti piacerebbe approfondirla? Assolutamente sì. Cosa ne pensi dell'Accademia delle Professioni? Credo sia un'ottima opportunità per approfondire i risultati fatti a scuola. Dove ti vedi tra dieci anni? Possibilmente all'estero e magari in un ristorante stellato o in un albergo. Il tuo dolce preferito? E tirarlo su. E quello che preferiresti preparare? La sacchera.